Buongiorno a tutti, oggi facciamo una lezione particolare che è stata pensata per dare anche spazio ai ragazzi delle scuole superiori che vogliono in qualche modo avere un assaggio di quello che sono le lezioni universitarie. In questa lezione faremo un approfondimento di quanto già visto nei moduli precedenti e dando degli esempi pratici applicativi di quello che abbiamo finora visto a livello teorico. Inoltre cercheremo di vedere alcuni aspetti pratici tecnologici utili al fine diagnostico e al fine analitico nei laboratori di genetica molecolare. L'esempio che vi porto oggi appunto è l'esempio della fibrosicistica. Che cos'è la fibrosicistica? La fibrosicistica è una malattia ereditaria autosomica recessiva. Ora per coloro che hanno frequentato il mio corso finora i termini autosomica e recessiva non dovrebbero tornare nuovi. Stiamo quindi parlando di una malattia ereditaria a trasmissione recessiva che si verifica solo nel caso il finotipo malato, si verifica solo nel caso entrambi gli alleli dell'individuo siano mutati con la mutazione che dà il gene recessivo, quindi l'omozigosi recessiva. È causata da mutazioni di un gene, un unico gene, che si chiama CFTR, è un canale per ioni cloruro, ma più in generale per agnioni, cioè ioni negativi. È stato dimostrato che la CFTR può far uscire dalla cellula anche bicarbonato per esempio. Le mutazioni della CFTR causano chiaramente una perdita di funzione, una loss of function che genera un disequilibrio osmotico, un disequilibrio adesso vediamo idrico nei pitelli dove la CFTR è espressa, dove questo gene è espresso, rappresentato. Sebbene la malattia sia multiorgano, è una malattia che colpisce molti organi del corpo umano, il problema polmonare ad oggi risulta essere la principale causa di malattia e mortalità. Ma la vediamo con calma. Dal punto di vista genetico, la CFTR è localizzata, il gene CFTR, se vogliamo parlare di gene, è localizzato nel locus presente nel braccio lungo del cromosoma 7. Ricordo che i cromosomi sono formati da un braccio corto, un centromero e un braccio lungo. Convenzionalmente il braccio lungo è definito Q e il braccio corto è definito P. Quindi la CFTR sta nella regione 7Q, cromosoma 7, braccio lungo. Il gene è formato da diversi esoni e diversi introni, li vedete rappresentati in giallo e in nero, in nero gli esoni, in giallo gli introni, vedete sono molti e infatti il gene è molto molto grosso, si tratta di 25 kg basi, 25.000 basi. Il gene viene espresso con una proteina, che la vedete qui, questa è in struttura primaria, viene definita nell'immagine, in realtà la struttura primaria dovrebbe avere anche tutta la sequenza amminoacidica per capire la struttura primaria, comunque si ha un N terminale, un C terminale e tutta la sequenza di amminoacidi e poi una struttura, diciamo, qui in cartoon, ma meglio rappresentata qui sotto, una struttura terziaria, la vediamo qui, che è formata da più strutture secondarie, strutture secondarie, le alfa eliche, le vedete qui, in queste regioni, e i beta foglietti, che li vedete qui. Come è formata questa proteina? Da cosa è formata? Vedete una proteina molto grande, formata da diverse subunità, quindi la struttura terziaria è molto complessa. Queste strutture ad alfa eliche sono definite membrane spanning domain, cioè domini che attraversano la membrana, la membrana citoplasmatica ovviamente. Sono sei per ogni dominio, quindi sei di qui e sei di là, abbiamo quindi un MSD1 e un MSD2, membrane spanning domain, one and two. È formata poi da nucleotide binding domain, uno e due, che sono domini che legano e vengono attivati da nucleotidi, nucleotide binding domain, e dopo vediamo di cosa si tratta. Infine, un altro dominio è questo, rappresentato in nero, che è un R domain, un regulatory domain, è un dominio regolatorio, che presenta siti multipli di fosforilazione, abbiamo visto nel corso quanto le modificazioni post-traduzionali, quindi dopo che è stata espressa la proteina, siano importanti per attivare in qualche modo le proteine che nascono non attive. Bene, tornando un attimo ai concetti già visti durante le ore di lezione, ricordo che i canali di membrana, tra cui il CFTR, possono essere diversi tipi. Esistono canali semplici come gli uniporti, i simporti e gli antiporti, esistono i canali di membrana a trasporto attivo, cioè che richiedono energia per poter trasportare l'interno all'esterno della cellula, ioni o sostanze. La CFTR fa parte di questo dominio, è un canale di membrana a trasporto attivo. Ecco brevemente come funziona. I membrane spanding domain 1 e 2 formano un poro tridimensionale all'interno della membrana citoplasmatica, che normalmente è chiuso, ovviamente, se no continuerebbero a entrare e uscire sostanze. Questo poro si apre qualora nei nucleotide binding domain 1 e 2 venga utilizzata, e quindi si vada a legare ATP, che è la molecola energetica della cellula, che viene defosfolilata, quindi perde un fosfato, generando da questa rottura di legame del fosfato energia che i nucleotide binding domain utilizzeranno per aprire il poro. Basta questo per far attivare il poro? No, occorre anche una regolazione da parte del R-domain, che funziona anch'esso tramite ATP e tramite altre kinasi, tra cui la proteine kinasi A, che vanno a fosforilare l'R-domain. Quando è fosforilato, abbiamo già visto altre volte, cambia la conformazione della proteina, perché la fosforilazione genera delle cariche elettriche che cambiano l'assetto dei vari aminoacidi, di chi la conformano, e cambiando la confermazione, apre il poro. E quindi da questo poro può uscire cloro, cloruro, Cl-, oppure bicarbonato. Esistono diversi tipi di mutazioni. Dunque, il gene mutato è sempre CFTR, ma le mutazioni che colpiscono CFTR, il gene CFTR, sono ad oggi più di 2000. Voi capite che studiare più di 2000 mutazioni è un compito arduo, soprattutto cercare di capire la funzione di oltre di 2000 mutazioni nella proteina. Sta di fatto che chi sta studiando questo ambito fisiologico della CFTR, ha diviso le 2000 e oltre mutazioni in, ad oggi, sei classi. La prima classe di mutazioni, che ne comprende un sacco, ma in generale sono mutazioni, come vedete, di stop, mutazioni non senso, provocano la mancanza di sintesi. E abbiamo già visto durante il corso di studi che cosa sono le mutazioni non senso. Le mutazioni non senso sono mutazioni che generano, tramite una mutazione puntiforme, il cambiamento del codice di lettura di una tripletta di un aminoacido, qualsiasi, in una tripletta di stop. Quindi al posto di questo aminoacido, una volta che l'MRNA viene processato dal ribosoma, non verrà inserito un aminoacilti RNA trasferasi, ma verrà inserito un releasing factor, quindi un fattore di terminazione. E quindi si troncherà la proteina in quella precisa posizione. L'anticodone che verrà portato non ci sarà, perché questa tripletta viene letta come tripletta di stop. Viene messo semplicemente il fattore di terminazione al posto del tRNA. Cosa significa, quindi? Vedete, X finale sta sempre per stop. In questo caso, per esempio, la glicina in posizione 542 della proteina viene scambiata con un codone di stop. Quindi la proteina, dopo 542 aminoacidi, sarà tronca. Ora, dovete considerare che la CFTR è formata da qualche migliaio di aminoacidi. quindi risulterà una proteina molto, molto corta, tronca e completamente immatura, non sarà una proteina funzionale. E quindi verrà processata per la degradazione, perché è inutilizzabile come proteina. La stessa cosa, vedete, ci sono altri esempi, in questo caso l'arginina, che va a cambiare con un codone di stop, e in questo caso il triptofano, che va a cambiare con un codone di stop. ma quello che non cambia è che le proteine tronche generano mancanza di sintesi, cioè è sintetizzata effettivamente un po' di proteina tronca, ma viene immediatamente degradata dalla cellula perché non sa cosa farsi di questa proteina, non è la proteina che veniva richiesta. La classe 2 è la classe più presente nella razza caucasica, cioè anche negli italiani. In particolare la mutazione F508-del, che qualche anno fa veniva chiamata delta F508, causa la delezione della fenilalanina, solo di quell'aminoacido, nella posizione 508. Quindi la fenilalanina 508 manca in quella proteina. Ora voi capite che già solo questa piccola delezione è una delezione di una tripletta fondamentalmente, la delezione della fenilalanina 508 causa il completo difetto di ripiegamento della proteina. Noi abbiamo visto nelle lezioni e dopo lo vediamo nel dettaglio che le proteine vengono modificate post-traduzionalmente, quindi dopo la traduzione, aggiungendo nel Golgi delle modificazioni chimiche come le fosforilazioni, le glicosilazioni. Questo comporta la loro poi attivazione oppure la loro funzionalità. In questo caso la mancanza di folding, la mancanza di ripiegamento genera una proteina non funzionale. È espressa la proteina ma non è funzionale. Molte altre mutazioni generano lo stesso tipo di problema, vedete? E sono quasi sempre mutazioni puntiformi in questi casi, vedete, G85E che è semplicemente il cambiamento di una glicina nella posizione 85 oppure in questo caso è un cambiamento di un aminoacido con un altro nella posizione 1303. Ma guardiamo le altre classi, nella classe 3 per esempio c'è una mancanza di funzione della proteina. quindi la proteina viene prodotta in modo corretto, viene anche glicosidata ma una volta spedita in membrana dove deve funzionare, vedete qui nel cartoon, non funziona. Una mancanza di funzione. Sembrebbe tutto a posto fino a che non arriva in membrana ma qui non funziona. E qui hanno definito come classe 3. L'asse 4 invece abbiamo che la proteina è espressa, viene glicosidata, viene mandata in membrana e funziona poco. Quindi se doveva funzionare in questo modo funziona la metà. Un altro problema nelle varie mutazioni che esistono è che la proteina può essere perfettamente funzionata ma prodotta poco, una ridotta sintesi della proteina. Ci sono mutazioni che in qualche modo rendono la proteina così instabile che la proteina è giusta dal punto di vista funzionale, può andare in membrana ma essendo instabile viene degradata molto velocemente. Quindi non riesce a stare in membrana quel tempo che gli serve per poter funzionare, si consuma troppo presto, non è stabile, ritorna nella cellula dove viene distrutta. che è poi quello che succede nella classe 6 cioè oltre a essere una ridotta sintesi ci può essere appunto quello che dicevo una ridotta stabilità e quindi la proteina può essere ve l'ho già detto essere degradata da un fenomeno di turnover accelerato poiché la proteina risulta poco stabile. Ora fino a pochi anni fa la classe 5 e la classe 6 venivano accomunati. Quello che invece è stato visto recentemente è che esistono mutazioni specifiche che causano proprio una stabilità ridotta e mutazioni specifiche che causano soltanto una ridotta sintesi. Quindi in che cosa si differenziano fondamentalmente le classi di mutazione delle proteine della CFTR si differenziano in base al tipo di difetto. Negli ultimi anni sta avendo molto riscontro una terapia che è basata su molecole definite CFTR modulator sono farmaci attualmente già disponibili sul mercato che vanno a correggere almeno parzialmente alcuni tipi di difetti. I farmaci attualmente presenti in commercio sono Orcamis Simdeco Calideco e vanno a correggere in buona parte le mutazioni di classe 2 di classe 3 e di classe 4. Sfortunatamente non esistono ancora farmaci in grado di correggere le classe 1 e le classi 5 e 6 ma esistono molecole in via di sviluppo e che forse nel futuro diventeranno farmaci che in laboratorio quindi in vitro stanno avendo successo e stanno ripristinando anche le mutazioni di classe 1 classe 5 e classe 6. Bene abbiamo parlato prima di mutazioni in un senso mutazioni puntiformi ricordo che le varie mutazioni possono creare distorsioni alla proteina possono creare alterazioni della espressione genica perché potrebbe essere che non arriva nemmeno a essere proteina una mutazione può causare addirittura abbiamo visto anche un difetto di sintesi quindi potrebbe arrivare a non sintetizzare poi la proteina ma tra le mutazioni puntiformi ricordiamo che oltre al non senso esistono le mutazioni missenso cioè mutazioni che vanno a cambiare semplicemente un aminoacido con l'altro e abbiamo visto diversi esempi anche nella tabella di prima e le frameshift dove invece viene inserita una sola un solo nucleotide che però è sufficiente una sola base che è sufficiente a spostare da lì in poi tutto il codice di lettura quindi si ha lo shift del codice lettura del frame ok quindi da lì in poi sarà tutto diverso esistono poi altri tipi di mutazioni che sono le cromosomiche tra cui ricordiamo le delezioni le duplicazioni le inversioni e le traslocazioni reciproche ora abbiamo già visto di che cosa si tratta abbiamo visto anche che la mutazione più presente nella ragazza caucasica è la F508 del e si tratta di una delezione delezione di un grosso segmento cromosomico ma è una micro delezione di una tripletta fondamentalmente che codifica per una specifica uno specifico aminoacido che è la fenilandina bene la mutazione delta F508 o F508 del viene a maggior parte del suo problema diciamo risiede nel momento in cui la proteina prodotta va nel Golgi dove dovrebbe essere chiaramente glicosidata e maturata al fine di poterla portare in membrana cosa avviene le varie glicosidazioni tendono a ripiegare la proteina in una maniera conformazionale che sia poi pronta per poter infilarsi in maniera corretta nella membrana citoplasmatica quindi i membrane spanning domain si infileranno all'interno del doppio strato fosfolipidico e il resto della proteina sta invece nel citoplasma con i suoi domini regolatori e i nucleotide binding domain quello che non avviene invece con la finila ananina 508 del è appunto questo ripiegamento cioè la proteina rimane accartocciata e questo non consente poi la proteina di poter arrivare in membrana perché non sa come dove attaccarsi in membrana quindi cosa succede intasa intasa il Golgi che continua a cercare di gligosilarla e di maturarla ma non ce la fa evidentemente questo genera uno stress intracellulare notevole oltre al fatto che non porta proteina in membrana e quindi non ci sarà la funzione della CFTR in membrana noi abbiamo visto però che nell'espressione genica durante l'espressione genica ci sono diverse fasi di controllo cioè prima che una proteina mutata vada in qualche modo a interagire con l'individuo con il sistema cellulare ci sono diverse fasi di controllo ci sono le fasi di controllo durante la replicazione del DNA durante la trascrizione durante la maturazione dello splicing durante la stessa traduzione e poi ci sono abbiamo visto i controlli post traduzionale ecco la delta F508 viene controllata qui nel controllo post traduzionale dove la proteina non riuscendo ad essere ripiegata in maniera corretta viene poi degradata al proteosoma e quindi la proteina che continua ad accumularsi nel golgi e non viene mandata in membrana dopo un po' comincerà a essere degradata dalla stessa cellula la fibrosicistica abbiamo detto è una malattia multi organo che coinvolge tutti gli organi formati da epitelli che sono tantissimi nel nostro corpo vediamo per esempio a livello nasale si creano poliposi nasali il velo respiratorio c'è un difetto di funzione respiratoria e dopo vediamo nel dettaglio nel fegato nell'intestino nel pancreas soprattutto nelle ghiandole sudoripare nei dotti deferenti dei testicoli nei maschi quindi una serie di problemi notevoli nell'individuo tuttavia quello di cui siccome questa non è una lezione di medicina ma vuole essere una lezione di biologia applicata giusto per farvi capire come funziona il CFTR prenderemo due esempi prima di parlare del polmone e vi parlerò velocemente di pancreas e di fegato per farvi capire un attimo come funziona il CFTR la CFTR è espressa in tutti gli epiteli abbiamo detto nella in genere nella membrana piccale degli epiteli quindi la membrana che va verso il lume delle ghiandole cosa fa il CFTR abbiamo detto è un canale per ioni cloruro e anche bicarbonato bene se questo canale non c'è o funziona poco o ce n'è poco cosa avviene avviene che l'ione cloruro non può uscire dalla cellula il fatto è che se non esce l'ione cloruro per bilanziamento di carica non esce nemmeno sodio carica positiva Na+, e molti di voi sapranno che cos'è il cloruro di sodio che è il sale se non esce sale non esce acqua quindi il problema di fondo che si genera è una mancanza di idratazione una mancanza di idratazione che nelle ghiandole in questo caso stiamo parlando di pancreas e quindi queste sono le cellule acinari degli acini del pancreas le cellule che secernano gli enzimi della nostra digestione il loro lavoro lo fanno se secernano gli enzimi non hanno un problema di secrezione enzimatica il problema è che se non c'è acqua questi enzimi si accumulano all'interno della ghiandola e non attraversano il dotto e non fuoriescono poi nel duodeno e quindi nel tratto digestivo dove loro devono fare la loro funzione cioè digerire gli alimenti ecco quindi che i pazienti hanno fenomeni di maldigestione ma l'assorbimento dei grassi soprattutto quindi quello che accade è una mancanza di secrezione enzimatica dovuta a una mancanza di idratazione la stessa cosa avviene nel fegato si dimenticavo questo è un dato diciamo più clinico che forse a voi interessa poco come ho messo come curiosità il i pazienti che soffrono di insufficienza pancreatica hanno un'età media più bassa di sopravvivenza rispetto ai pazienti che invece hanno sufficienza pancreatica perché alcuni pazienti hanno sufficienza pancreatica perché abbiamo visto che le classi mutazioni sono tante e che soprattutto le ultime classi quindi la quinta e la sesta in realtà hanno della proteina funzionale che o viene poco espresso o è poco stabile ma in qualche modo loro hanno un'intrattazione da CFTR quindi la CFTR in qualche modo funziona poco ma funziona questo poco che funziona a volte in alcuni pazienti garantisce comunque una sufficienza pancreatica cosa significa che il pancreas riesce a secerere una quantità comunque ridotta ma funzionale di enzimi e quindi questi pazienti hanno un pancreas sufficiente questi pazienti correllano diciamo la sopravvivenza di questi pazienti è migliore rispetto ai pazienti che non hanno chiaramente che hanno un'insufficienza diciamo nel fegato parliamo qui di colangiociti quindi cellule dedicate nel fegato alla secrezione di bile e sali biliari è la stessa cosa del pancreas cioè gli enzimi di esse cerno ma la mancanza di CFTR nella parte apicale quindi all'interno del lume vedete il lume lo spazio che c'è tra queste cellule e queste cellule si genera un canale che poi si viene un dotto e in questo lume gli enzimi si accumulano si incastrano rimangono rimangono praticamente intasati perché non c'è dell'acqua che li fa effluire al di fuori del lume e quindi va a farli andare nel luogo dove loro devono poi andare a funzionare e quindi cosa accade non c'è la CFTR funzionale non c'è lo scambio quindi di cloruro l'efflusso di cloruro l'efflusso poi di sodio richiamato l'idratazione e nel tempo tutti questi canali dotti duttuli si atrofizza e ovviamente genera poi dei problemi a livello digestivo bene quello che accade nel polmone è molto molto simile ma è più in qualche modo per i pazienti con fibrosi cestica è più grave perché la la mancanza di CFTR CFTR o il misfolding cioè la mancanza di ripiegamento corretto di CFTR nel caso della F508 DEL genera abbiamo detto segnali di stress all'interno delle cellule i segnali di stress vengono letti dai meccanismi molecolari come attivazioni di pathway cioè di via di segnale interno la cellula che garantiscono in qualche modo un ripristino di questo stress cioè se la cellula è stressata cerca di rispondere per scaricare lo stress è un po' quello che facciamo noi come lo fa con delle vie di segnale intracellulare e delle attivazioni di pathway specifiche una di queste pathway abbiamo visto già nelle lezioni prevede l'attivazione del fattore di trascrizione NFKB che è uno dei principali mediatori dell'infiammazione ecco allora che il polmone di un paziente con fibrosicistica è iperinfiammato ora ci sono due teorie che cercano di spiegare questo iperinfiammazione da una parte una teoria dice il polmone con fibrosicistica è iperinfiammato da subito appena nasce il bambino perché appunto la mancanza o il misfolding delle proteine genera stress all'interno della cellula tale per cui le cellule sono infiammate da sole per l'attivazione di questi fattori di trascrizione tra cui NFKB un'altra teoria dice no in realtà l'infiammazione avviene dopo poiché la mancanza di CFTR genera poca idratazione e la poca idratazione genera genera un appiattimento dell'epitelio polmonare che è formato da tante ciglia vibratili che cercano di muovere il muco che si genera spontaneamente nei nostri polmoni in difesa alle più svariate aggressioni e minacce dall'esterno come possono essere batteri virus muffe o quant'altro qualsiasi cosa noi respiriamo anche il fumo di sigaretta stesso e battendo cerca di portarlo verso l'alto quindi dall'albero bronchiale risale e poi lo rispettoriamo ora se hai disidratato questo epitelio le ciglia sono atrofizzate perché manca l'acqua lì sopra di loro un liquido più che acqua è un liquido superficiale delle vie aeree che è formato sì da acqua ma è pieno anche di molecole attive a livello antimicrobico e mancando questo strato loro non riescono a battere perché beh potete immaginare se non c'è acqua praticamente loro sono appiattite sulle stesse cellule e non hanno dove battere se invece ci fosse l'acqua ecco che stanno distese e cominciano a battere seconda teoria in realtà non è detto che le due teorie non stiano poi insieme cioè nel senso che si avvera una e che si avvera anche l'altra quello che comunque accade è che tra i vari fenomeni che si sono visti l'assenza di espressione o la ridotta espressione o l'espressione non funzionale della proteina CFTR causa una serie di difetti tra cui difetti dell'acidificazione degli osomi e un accumulo di alcune sostanze nella cellula tra cui la ceramide che è una sostanza che sta nel doppio stato fosfolipidico questo accumulo genera l'attivazione di segnali tra cui infiammazione appunto apoptosi ricordiamo che l'apoptosi è la morte cellulare programmata diversa dalla necrosi che diventa una risposta ad un insulto quindi la morte di una cellula dovuta a un'aggressione per esempio di un patogeno l'apoptosi è la cellula stessa che decide di ammazzarsi perché in qualche modo non va bene sente di non andare bene tenta al suicidio tenta la morte programmata per eliminare il suo problema tutto questo tutto questo è aggravato poi da infezioni batteriche ora l'infezione più comune nella ficosicistica o quella diciamo che è più chiacchierata perché è anche purtroppo una delle più difficili da radicare è l'infezione da un tipo di batterio che è la pseudomonas aeruginosa la pseudomonas aeruginosa è un batterio normalmente innocuo esiste ovunque la pseudomonas aeruginosa la possiamo trovare nelle pozzanghe negli stagni sulle superfici solide tra cui i tavoli i pavimenti è un batterio molto molto comune e che normalmente non causa nulla non causa malattie a meno che non ci siano particolari condizioni tra cui l'immunosoppressione per cui il sistema immune non riesce a liberarsene quando dovrebbe invece farlo facilmente oppure la fibrosicistica l'ambiente polmonare della fibrosicistica è così ricco di muco così poco abile nel pulirsi abbiamo visto le ciglia che non battono e è così particolare nel suo grado di habitat che si genera il microambiente polmonare che pseudomonas aeruginosa reputa questo ambiente ottimale per la sua crescita e la sua sopravvivenza il che significa che genera delle infezioni profonde molto difficili da radicare e in più la stessa stessa batteria riesce ad adattarsi all'interno di questo polmone in maniera ottimale quindi la teoria infiammatoria nel polmonare fibrosicistica è riassunta in questo cartoon che è molto molto complesso ma cerchiamo di districarlo esiste un'infiammazione probabilmente precoce un'infiammazione che nasce prima dell'infezione batterica questa infiammazione dovuta probabilmente o alla mancanza di liquido superficiale delle vie aeree airware surface liquid o all'incremento della sua viscosità al poco battito ciliare al CFTR che viene trattenuta all'interno delle golgi e crea segnali di stress una serie di cose sta di fatto che questa infiammazione è presente fin dai primi anni di vita dei bambini l'infiammazione produce tutti i fenomeni tipici di un'infiammazione quindi il reclutamento di cellule dell'immunità in particolare dell'immunità innata cioè dell'immunità che non è specificamente preposta all'eliminazione di un particolare virus di un particolare batterio ma viene richiamata per eliminare una qualsiasi aggressione acuta per cui è come se diciamo fossero le squadre speciali no le suote del nostro del nostro organismo in particolare le cellule dei globuli bianchi del nostro sangue che sono addette a questa particolare funzione sono i granulociti neutrofili e li vedete qui in questo cartoon quindi il polmone di un bambino con fibrosicistica è già ricco di granulociti neutrofili e uno potrebbe dire che sono cellule dell'immunità nostra e che vanno anche bene perché vuol dire che proteggeranno meglio il polmone il problema è come spesso si dice il troppo stroppia nel senso non va bene un reclutamento massiccio di neutrofili perché queste cellule sono cellule in generale terminali sono cellule che non hanno una vita lunghissima e una volta che decidono di morire e quindi di essere poi rimpiazzate da cellule nuove che vengono prodotte nel nostro midollo e liberano i loro granuli sono estremamente tossici non solo per i batteri che è la loro funzione primaria ma sarebbero tossici anche per le nostre stesse cellule degli epiteli del polmone perché contengono miloperossidasi contengono DNA contengono contengono proteasi e quindi voi capite che tutte queste molecole DNA proteasi miloperossidasi sono tutti enzimi fiscoli per asi sono enzimi catalizzano reazioni che non vanno benissimo per esempio le proteasi degradano tutte le proteine le proteine le cellule sono ricche di proteine hanno i recettori che sono quasi tutti proteici degradare non va bene soprattutto se è una degradazione massiccia il DNA che liberano che loro liberano come forse una trappola il DNA è molto viscoso ora la fisicistica si chiama muco viscidosi anche in italiano perché rende il muco viscoso il DNA rende tutto ciò che incontra ancora più viscoso immaginate qual è il problema è un continuo accumulo di cose su cose che vanno a incrementare il problema invece di diminuirlo quello che comunque poi fondamentalmente accade è che arrivano anche le infezioni batteriche prima o poi nel tempo e tutto questo processo viene amplificato il mediatore che più di tutti si sta studiando in questo sistema infiammatorio pulmonare è interlochina 8 insieme ad altre citochine tra cui tnf-alfa interlochino beta interlochina 6 il gro-alfa gro-gamma sono tutte citochine pro-infiammatorie citochine e chemochine pro-infiammatorie le citochine e le chemochine pro-infiammatorie sono proteine solubili che vengono prodotte dalle nostre cellule on demand cioè nel momento in cui esiste un'infiammazione il nostro corpo per richiamare la nostra immunità il nostro sistema immune dal nostro sangue quindi i globuli bianchi manda in circolo dei segnali di pericolo che sono queste citochine e queste chemochine le chemochine in particolari creano chemotassi cioè fanno muovere i globuli bianchi in particolare in questo caso i neutrofili nel luogo di richiamo siccome si genera un gradiente voi capite che una citochina viene prodotta dal mio polmone vicino al mio polmone sarà tanta citochina perché è lì che viene prodotta poi man mano si diluisce nel torrente ematico e andrà più distante andiamo più sarà diluita questo gradiente che si genera in realtà è letto da alcune cellule dell'immunità appunto in questo caso dai granulocini neutrofili che seguono il gradiente finché non arrivano al punto in cui è più presente è più concentrata questa chemochina e quindi continuano a richiamare continuano a richiamare neutrofili all'interno del polmone all'interno del lume del lume bronchiale e quindi il fenomeno di rilascio di DNA il fenomeno di rilascio di proteasi viene estremamente amplificato nel tempo giusto per immagino qualcuno di voi non abbia mai visto le cellule dell'immunità o comunque le cellule del sangue il nostro sangue è formato da diversi tipi cellulari gli eritrociti che sono i globuli rossi sono questi qui che vedete sono dei dischetti senza nucleo concavi il cui ruolo principale è trasportare una proteina che abbiamo visto nel corso di studio che è l'emoglobina ricordatevi la forma la struttura quaternaria dell'emoglobina è un particolare esempio di struttura quaternaria di una proteina poi esistono i monociti che sono cellule molto grandi che si trasformeranno poi in macrofagi una volta che vengono attivate e che sono degli spazzini fagocitano tutto quello che devono ripulire cellule morte batteri morti sono dei fagociti enormi una volta che vengono attivate gli eosinofili che sono dei granulociti vedete questi puntini all'interno sono granuli e loro vengono chiamati granulociti cioè cellule con granuli e vengono spesso attivati durante le le allergie insieme ai basofili le piastrine che sono dei pezzi di vecchie cellule che vengono chiamate megacariociti nel nostro midollo che poi si frantumano e generano dei pezzettini circolanti chiamate piastrine che sono importanti per la coagulazione i linfociti cellule più piccole sempre globuli bianchi addette alla secrezione di anticorpi se sono linfociti B oppure al riconoscimento specifico quindi qua parliamo di immunità invece adattativa immunità specifica non più l'immunità l'immunità innata qui parliamo immunità specifica che va a riconoscere appunto alcune proteine espresse dalle cellule e se le riconosce come non self quindi come non proprie del nostro organismo va a eliminarle richiamando poi anche cellule di altri tipi come appunto i macrofagi oppure i neutrofili e poi i neutrofili li abbiamo appena visti i neutrofili sono detti anche polimorfo nucleate vedete il nucleo questo è un nucleo è formato da più lobi quindi al microscopio proprio si vedono chiaramente eccolo qui questo è al microscopio un un polimorfo nucleato un neutrofilo e vedete come il nucleo è generato da più lobi sembrano quasi quattro nuclei ma in realtà è un nucleo unico polilobato bene sono richiamati appunto i neutrofili nell'infiammazione acuta l'abbiamo detto prima migrano rapidamente i tessuti dal sangue ve l'ho detto prima tramite la chemotassi e la funzione principale di questi neutrofili è fagocitare i batteri oltre che secerne le loro stessi cituchine e chemochine per richiamare altri di loro è come si dessero l'allarme i poliziotti ricordo a questo punto che abbiamo già visto alcuni di questi concetti la fagocitosi la pinocitosi la endocitosi i metarecettori sono fenomeni dell'endocitosi cellulare cioè quindi l'ingresso da parte l'importazione nella cellula di nel caso di fagocitosi appunto possono essere batteri o organismi derivati da lisi cellulare quindi tutto ciò che è materiale diciamo da di cui liberarsi la pinocitosi è una forma di endocitosi di liquido quindi sono vescicole di liquido in cui è contenuto chiaramente qualcosa a cui la cellula serve quindi possono essere assoluti o può essere semplicemente anche acqua che necessita la cellula per reintegrare la sua osmosi le endocitosi invece mi hanno dato a recettori avviene con molecole specifiche che riconoscono un recettore sulla cellula quindi c'è un'interazione ligando-recettore che poi genera la vescicola e viene trasportato all'interno la sostanza bene abbiamo parlato di interlochina 8 questa chemochina questa chemochina è molto importante abbiamo detto nell'infiammazione dovuta sia diciamo al difetto di base della fibrosicistica quindi le mutazioni della CFTR che alla infezione nelle fasi diciamo tardive di particolari batteri tra cui la pseudomonasorginosa ma poi ripeto ce ne sono molti altri ci può essere lo stafilococcus aureus la burcoldaria cepace ci sono diversi tipi di batteri specifici purtroppo per la fibrosicistica che danno molti molti problemi bene interlochinotto è secreta abbiamo visto lo stesso epitelio polmonare quindi una forma di immunità diffusa l'epitelio polmonare non è una addetto all'immunità è una barriera tra l'interno e l'esterno del nostro corpo dove c'è lo scambio gassoso dei polmoni i nostri bronchi lì c'è il nostro epitelio e la loro funzione primaria appunto è di difesa dell'aggressione esterna meccanica quindi una barriera e poi abbiamo visto le ciglia vibratili per cercare di pulire al massimo le superfici dell'epitelio e liberare il lume bronchiale tuttavia è ormai noto in immunologia che esista anche l'immunità diffusa cioè tutte le cellule anche quelle del nostro epitelio sono in grado di richiamare immunità di coordinare immunità e infatti l'interlochinotto è ampiamente espressa dall'epitelio bronchiale è espresso anche chiaramente dalle cellule dell'immunità vediamo anche dai macrofagi per esempio ma anche gli stessi neutrofili possono esprimere l'ochinaotto quello che comunque avviene è il richiamo di neutrofili e abbiamo visto ci sono dei pro quindi dei vantaggi nel richiamo di neutrofili perché i neutrofili vanno a uccidere i batteri e a degradare i tessuti danneggiati ma anche dei contro quando c'è troppo richiamo di neutrofili per la loro secrezione di proteasi di mieloporosidasi quindi di superossido quindi radicali ossigeno vanno a uccidere il nostro stesso epitelio e poi le proteasi bene ricordo che quando parliamo di espressione di una gene in questo caso parliamo di espressione di interlochinaotto e quindi di una proteina l'espressione genica si riassume in questo modo dal DNA viene trascritto un RNA che a sua volta viene tradotto in proteina durante la trascrizione del RNA messaggero quindi del codice che va a leggere la sequenza della poi proteina quindi il codice che dà la codifica per un determinato gene in generale in questo caso una proteina viene regolata la trascrizione viene regolata abbiamo visto attraverso una particolare regione del gene che è il promotore nel quale si legano diversi fattori di trascrizione i fattori di trascrizione si legano alle loro sequenze di consenso cioè sequenze specifiche che riconoscono quel fattore di trascrizione che è una proteina e questo fattore di trascrizione ha un dominio che riconosce esattamente quella sequenza di nucleotidi voi dovete capire che i nucleotidi alla fine sono molecole chimiche quindi avranno una struttura giusto quindi la proteina avrà una conformazione tale che si incastra bene solo dove quella precisa sequenza di nucleotidi quindi quella sequenza con senso è presente quanti fattori di trascrizione si attaccano al promotore prima di far iniziare la trascrizione abbiamo visto spesso sono molti prima che arrivi la RNA polimerasi ci sono più fattori di trascrizione che cooperano nel complesso di richiamo della polimerasi la polimerasi è l'enzima che va a polimerizzare l'RNA a partire dal DNA quindi è una RNA polimerasi DNA dipendente bene altra cosa abbiamo parlato di recettori quanti tipi di recettori ci sono e come avviene l'attivazione di un recettore è stato visto per esempio che pseudomonas aeruginosa riconosce o meglio le cellule riconoscono pseudomonas aeruginosa meglio attraverso specifici recettori i recettori coinvolti in questo caso sono il toll-like receptors toll-like receptors in particolare il 4 il 2 l'1 e il 5 non vi sto a dire adesso esattamente il dettaglio o non vi chiederò mai queste specifiche cose perché questo è signaling intracellulare e necessita un esame di un esame parallelo però ecco è per dirvi che il nostro corpo è in grado di riconoscere il nostro epitelio pulmonare è in grado di riconoscere il batterio in diversi modi riconosce diverse sue strutture nel 4 per esempio riconosce l'LPS l'ipopolisaccaride nel 5 riconosce il flagello e quindi è in grado di capire che cosa sta avvenendo al suo esterno cioè dice ah qui ho un'aggressione batterica di un tipo di batterio di questo tipo attiva una trasduzione del segnale abbiamo visto le cascate di segnale le abbiamo già viste queste nel corso queste cascate di segnali in questo caso sono MyD88 dipendenti cioè questa proteina particolare MyD88 è un segnalatore una molecola adattatoria che trasferisce il segnale dal recettore alle macchinasi le chinasi trasferiscono il segnale tramite fosforilazioni fosforilazioni e cascata che vanno a attivare poi i fattori di trascrizione tra cui NFKB e altri AP1 IRF7 IRF3 quindi la cellula riconosce pseudomonas e attiva i suoi fattori di trascrizione riassumendo che andranno a regolare l'espressione genica di alcuni geni tra cui le citochine e le chemochine ora una decina di anni fa io mi direttavo a costruire in laboratorio delle sequenze con senso artificiali quindi disegnavo del DNA a single strand perché i fattori di trascrizione riconoscono il single strand mi pare che qua no qua non viene non ne viene parlato ma il fattore di trascrizione riconosce la sequenza quindi la sequenza è in un single strand è già aperto il DNA si è già denaturato i punti idrogeno delle due tra pirimidine e purine si sono aperti e nel singolo nel singolo filamento le sequenze sono disponibili ora se io disegno delle sequenze a singolo filamento di DNA esattamente come sono le sequenze con senso dei nostri fattori di trascrizione e sono noti perché ci sono dei delle banche dati su questi su queste sequenze di consenso io posso teoricamente pensare di in qualche modo catturare i fattori di trascrizione perché loro sono fatti apposta per agganciarsi con queste sequenze di consenso ora l'idea qual era era io disegno una sequenza di consenso sintetica la metto nella cellula e sequestro il fattore di trascrizione perché io ne metto tanta ne metto un eccesso di queste sequenze di cui di cui non significa altro che esca in inglese quindi semplicemente metto delle sequenze che vanno a sequestrare il fattore di trascrizione perché lui tendrà ad allegarsi a questo e non al promotore del mio gene e quindi evito che la trascrizione di interlochina 8 abbia inizio questo è dal punto di vista terapeutico che però è molto difficile attuare perché il problema è come faccio io in un paziente a mettere DNA esogeno single strand all'interno del polmone come glielo trasferisco il DNA di suo non entra facilmente nelle cellule inoltre se è DNA single strand e quindi non è un DNA esattamente fisiologico perché il DNA sta a doppio filamento nel nostro corpo viene riconosciuto anch'esso da toll-like receptor quindi dalle recettori dell'immunità innata e quindi rischio di fare fondamentalmente un gran casino perché rischio di attivare infiammazione su infiammazione invece di dargli un beneficio però poteva essere utilizzato questo sistema per uno scopo più accademico per capire quali sono i fattori di trascrizione che intervengono nella regolazione del gene interlochina 8 e quindi poi per capire se queste proteine fattori di trascrizione che vengono agganciati dal promotore interlochina 8 magari hanno dei farmaci già sperimentati nell'uomo che non agiscono come i decoi ma che vanno a semplicemente a sequestrare o a inibire la loro funzione non so ci siamo capiti quindi il nostro intento iniziale era di fare terapia con questi decoi però pensandoci bene era impossibile fare terapia genica di questo tipo qua dieci anni fa soprattutto eravamo molto distanti da capire come inserire geni all'interno di cellule senza provocare grossi problemi esisteva già la terapia genica teorica i virus diciamo i virus disarmati esistevano già per l'inserimento di geni anche grossi all'interno di cellule però dal punto di vista terapeutico tutto questo non è ancora provato e non lo era all'epoca e non lo è tuttora tanto per dire quanto lavoro c'è da fare in campo di terapia genica però detto questo il disegno di specifici specifiche sequenze di consenso sintetiche poteva darci un'idea di quali e quanti fattori di trascrizione legano il promotore di interlocchina 8 ora basta fare un'analisi in silico cioè con un software che contiene le banche dati dei promotori di tutti i geni e che riconosce le sequenze consenso per diversi fattori di trascrizione all'interno di una sequenza che io do in pasto a questo software quindi ho ricavato la sequenza del promotore di interlocchina 8 gli ho dato a tutto in pasto questo software e questo software mi ha predetto queste sequenze una sequenza per il fattore di trascrizione CREB a meno 171 paia di basi dal TataBox TataBox ricordiamo che è il sito d'aggancio del primo fattore di trascrizione che occorre il TF2 che occorre per la trascrizione l'abbiamo visto anche prima ma non ve l'ho forse detto un attimo che vado a prenderlo eccolo qui il TF2D si aggancia al TataBox il primo fattore di trascrizione TF2D si lega al promotore nel TataBox c'è anche scritto bene allora a meno 171 paia di basi da il sito più uno del TataBox abbiamo una predizione per CREB con questa sequenza consenso a meno 137 abbiamo un'altra sequenza consenso predetta per il fattore di trascrizione CHOP a meno 126 una sequenza consenso per AP1 a meno 93 una sequenza consenso per NFL6 tutti i fattori di trascrizione e a meno 80 per NFKB ora di tutto questo era noto solo NFKB e in parte AP1 quindi gli altri tre fattori di trascrizione CREB CHOP NFL6 erano novità per indagare se questo fosse vero cosa abbiamo fatto abbiamo disegnato esattamente i decoi con queste sequenze quindi corti frammenti di DNA single strand a filamento unico con queste sequenze e li abbiamo dati in pasto ai fattori di trascrizione ricombinanti purificati quindi a proteine purificate e abbiamo visto i vari modi di purificare le proteine quali ci sono e li stiamo ancora vedendo per quello non è ancora finito ma tanto per dirvi quanto è importante anche avere proteine purificate bene quello che abbiamo quindi fatto è stato fare un elettroforesi come quello che abbiamo già visto per gli acidi nucleici nella quale facevamo correre però non più solo l'acido nucleico in base alla sua grandezza e alla sua carica che quindi correva il polo negativo e il polo positivo in base alla sua grandezza in un gel di erosio per esempio o in un gel di poliachillamide no in questo caso una elettroforesi particolare prevede che io vado prima a generare i nostri nucleotidi marcati con una molecola radioattiva poi li faccio li metto in pasto ai miei fattori di trascrizione purificati aspetto che i nostri fattori di trascrizione vadano ad agganciarsi nelle loro posizioni e poi faccio correre i complessi insieme ai nucleotidi liberi quello che ottengo è quello che viene definito un electroforesis mobility shift assay shift sta per ritardo quindi cosa significa vedete le sonde marcate con radioattivo una volta che vado a fare una una detection del radioattivo vedo che hanno corso nell'elettroforesi in modalità libera fino in fondo quindi sono andate dal polo negativo al polo positivo perché ricordiamo che il dna in generale è una molecola che ha ph neutro e carico negativamente dovuto ai suoi gruppi fosfato quindi migrerà verso il polo positivo liberamente essendo molto piccoli ci metteranno anche molto poco a migrare in un gel di agarosio o di poliacrilamide in questo caso è poliacrilamide bene quello che invece ottengo sono delle bande molto più alte di dna radioattivo che sono più alte perché sono state agganciate dalle proteine quindi dai fattori di trascrizione che io ho messo e vedete che quando io mettevo nfkb ritardavo con creb ritardavo la sua sequenza con senso con nfl6 ritardavo con ap1 ritardavo e con chop ritardavo chiaramente con efficienze diverse ma quello che ottenevo era che tutte le sequenze di coi esca stavano agganciando i miei fattori di trascrizione che ritardavano la corsa dei nucleotidi radiomarcati perché la proteina pesantiva una volta agganciata il nucleotide e quindi nell'acrilamide nel gel di acrilamide rimaneva ritardata nella corsa rallentava la corsa dei nucleotidi agganciati alle proteine ai fattori di trascrizione questo è un controllo da questa parte è un controllo negativo in cui io sovraccarico sovraccarico i miei fattori di trascrizione con molecole non radioattive quindi invisibili alla detection e però lasciatelo perdere questo è un controllo che viene richiesto nei paper come controllo di validità dell'esperimento ma quello che importa dal punto di vista funzionale è questa parte questa parte quindi chiarisce che i miei di cui erano sufficientemente disegnati nelle varie cellule in laboratorio possiamo trasferirli molto bene ci sono metodi che dal punto di vista in vitro funzionano molto molto bene ma sono inapplicabili nel vivo o nel paziente in questo caso abbiamo trasferito i dicoi all'interno delle cellule e poi abbiamo aspettato vedete 24 ore più 4 ore di infezione con il batterio con la pseudomonas seroginosa PAO1 non è altro che un ceppo uno strain è un ceppo di laboratorio di pseudomonas seroginosa che è catalogato di cui sappiamo tutto sappiamo il genoma sappiamo tutto ed è un ceppo che viene usato per fare le infezioni in vitro alla fine di questa fase sperimentale siamo andati a vedere l'espressione delle varie citochine che sono importanti nella fibrosicistica in particolare interlochina 8 l'idea era se io sottraggo con i dicoi alle cellule i fattori di trascrizione in base al loro peso sulla espressione genica di questi geni io vedo quanto è importante quel fattore di trascrizione e quindi posso capire se per esempio inibire NFKB è importante per ridurre anche l'espressione interlochina 8 dal punto di vista per esempio di un futuro idea terapeutica no? quindi era un'idea che poteva essere poi traslata in futuro per fare tutto questo quindi per andare ad analizzare l'espressione del gene dopo l'incubazione col di COI abbiamo deciso di quantificare l'RNA messaggero di questi vari geni tra cui interlochina 8 oggi ci concentriamo su interlochina 8 in realtà abbiamo fatto 3 su tutti questi no? guardiamo come esempio che ci basta e avanza interlochina 8 per vedere l'espressione di un messaggero quindi di un mRNA esiste una tecnica che è la real time PCR che è una PCR come quelle che abbiamo già visto nelle lezioni precedenti ma ha il vantaggio di essere quantitativa cioè mi dice quanta interlochinato non solo se è espressa o non espressa ma quanto è espresso e a me serve sapere quanto è espresso perché prima e dopo il trattamento io voglio sapere se è espressa di più o di meno non si è espressa io mi attendo che sia espressa perché ho messo un batterio che ne stimola l'espressione abbiamo visto quindi mi attendo che interlochina 8 ci sia ma i dicoi hanno ridotto l'espressione di interlochina 8 quindi c'è una riduzione quantitativa di interlochina 8 quindi real time PCR questo è lo schema di PCR che avete visto anche nel filmato insomma quelli che di voi hanno seguito chiaramente il mio corso finora e hanno visto che nel filmato la PCR avviene per diversi cicli di amplificazione la PCR è la polymerase chain reaction che è la reazione a catena della polimerizzazione del DNA perché a catena perché innanzitutto il DNA viene denaturato quindi si separano i due filamenti rendendolo single strand la denaturazione viene fatta come? con il calore a 95 gradi poi c'è una fase di annealing dove dei primers cioè delle corte sequenze di DNA che io ho disegnato e che si agganciano perfettamente al gene che voglio amplificare in questo caso interlochina 8 quindi disegnerò un pezzettino specifico di interlochina 8 che si aggancia esattamente in modo complementare al template quindi allo stampo del gene interlochina 8 e questo si chiama primer oggi come oggi ci sono mille ditte che li vendono i primers li vendono già fatti già quantificati validati purificati tutto quello che si vuole fino a anni fa bisognava disegnarsi in laboratorio con carta e penna e disegnare tutte le varie vasi e poi da dargli una ditta che si chiama sigma altrici dicendo io voglio un primer per interlochina 8 che è fatto di così att gcc att mettiamo adesso invece ti danno già fatti già validati ma in ogni caso il primer funziona esattamente dal stesso modo è disegnato per riconoscere una specifica sequenza contenuta nello stampo del gene in questione cioè il primer è specifico per il gene in questione il primer interlochina 8 è per interlochina 8 riconosce nel 3 primo una piccola regione in cui si aggancia da qui la polimerasi la polimerasi va a polimerizzare dal 5 primo a 3 primo il il nostro frammento quindi va a riprodurre tutto ciò che manca a parte il primer cioè il primer era la prima parte che c'era tutto ciò che viene dopo e che fa parte comunque dello stampo di cui c'era prima lo stampo diciamo del template del DNA in questione dell'interlochina 8 viene amplificata e polimerizzata benissimo a questo punto questa è la fase di allungamento a questo punto si ripropone di nuovo che cosa una denaturazione e di nuovo annealing elongation per 40-50 cicli quindi si continua a fare denaturazione annealing e allungamento denaturazione annealing e allungamento affinché non abbiamo ottenuto che da poche molecole di DNA abbiamo ottenuto tantissime molecole di DNA e in questo caso noi possiamo poi quantificarlo ora voi direte ma noi stiamo parlando di messaggero RNA non di DNA è esatto e infatti prima di fare tutto questo quello che occorre è trasformare l'RNA messaggero in un DNA e ciò è possibile farlo è possibile perché i retrovirus tra cui l'HIV il più noto ci hanno insegnato come fare un enzima particolare contenuto in questi virus si chiama trascrittasi inversa è un enzima che è in grado di polimerizzare DNA a partire da RNA quindi è una DNA polimerasi RNA dipendente questa polimerasi che funziona al contrario della polimerasi che sintetizza RNA nel nostro corpo ok viene messa a contatto con il messaggero estratto dalle nostre cellule e trasforma il messaggero in un particolare DNA che è detto DNA copia o cDNA quindi useremo il DNA copia per fare la PCR e non il messaggero ma ricordatevi che è come se stessimo parlando del messaggero perché è esattamente la copia in DNA del nostro RNA fatto grazie a un enzima che è la trascrittasi inversa bene questa è un'altra figura che trovate anche nel libro di testo della della PCR di come avviene quindi il primo ciclo è la denaturazione vedete temperatura 90 KV perché serve energia per staccare i due filamenti di DNA l'annealing quindi l'aggancio del primer e la estensione quindi la polimerizzazione a partire dal primer in poi del nostro DNA che sarà l'esatta copia complementare dello stampo che era presente nel campione quello che potevamo fare in realtà era anche un'altra cosa inizialmente potevamo decidere di quantificare l'RNA direttamente senza fare realtà in PCR dall'RNA con elettroforesi abbiamo già visto nella lezione l'elettroforesi fatta su su gel in questo caso un'elettroforesi di RNA un northern blot in questo caso ma in ogni caso quello che accade è questo si generano delle bande in base al peso molecolare dell'RNA quindi quanto lungo è il peso dell'RNA la molecola che stiamo analizzando e le bande sono il numero di bande significa il numero di diversi pesi molecolari di RNA che abbiamo quindi quanti frammenti di diversa grandezza abbiamo in questo caso due frammenti in questo caso che è un altro caso sempre trovato nel libro è un RNA degradato dove non abbiamo delle bande nette ma abbiamo uno smir cioè tante tanti pesi molecolari dovuti appunto alla frammentazione dell'RNA che ha generato diversi pesi molecolari che quindi diventa irriconoscibile quindi in questo caso noi dovremmo buttare via la membrana ma quello che noi non possiamo fare in questo caso è quantificare cioè noi possiamo dire c'è o non c'è e quanti frammenti abbiamo e quanto lunghi sono ma noi non possiamo dire se c'è più o meno interlochina 8 messaggero rispetto all'inizio del trattamento con i decoi o meno rispetto all'inizio del trattamento con decoi quindi cosa succede? che ci dobbiamo valere di un'altra tecnica che è la real-time PCR la real-time PCR è un metodo di amplificazione basato sulla fluorescenza emessa dal cdna in durante i cicli di amplificazione e che è proporzionale alla quantità di cdna presente nel campione quindi abbiamo un grafico in cui c'è la fluorescenza in ordinata e i cicli di amplificazione in ascissa vedete che man mano che io tendo ad amplificare con i cicli quindi ciclo 1 2 3 4 5 6 al quindicesimo diciannovesimo ciclo in questo caso incominciamo ad avere un incremento di fluorescenza dovuto al fatto che le molecole di dna amplificate cominciano ad essere detectable dallo strumento e quindi la fluorescenza che compare è sempre proporzionale alla quantità che stiamo amplificando vedete amplifichiamo 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 cresce il segnale ad un certo punto arriva plateau perché arriva plateau perché i primers non sono infiniti è il reagente limitante nel momento in cui i primers sono finiti e quindi non si riesce più ad amplificare la funzione va a plateau perché da qua in poi avremo un massimo di fluorescenza ma in ogni caso l'amplificazione che abbiamo tenuto qui in questa in questo tracciato esponenziale sarà quantificabile adesso vediamo come ecco se avessimo usato la vecchia PCR che abbiamo visto prima quindi con l'endpoint PCR sul materiale cellulare quindi sull'estato cellulare prima e dopo esperimento non avremmo potuto vedere differenze e questo è un esempio per esempio se io mettessi lo stessa quantità di messaggero lo facessi amplificare in PCR e poi andassi a misurarlo con l'elettroforesi potrei ottenere eccolo qua due bande completamente diverse che mi indicherebbero due quantità diverse ma in realtà sembra diverso perché noi sappiamo che abbiamo caricato la stessa quantità in questo esperimento vedete questo cosa indica che non è quantitativa cioè questo è semplicemente un una ottimizzazione di amplificazione che è stata fatta meglio qui questa è stata un'amplificazione ottimale questa non ottimale e io non posso saperlo nel momento in cui carico l'elettroforesi e separo semplicemente la mia banda mettiamo interlocchina 8 messaggero non posso dire che questo è di più di questo perché è semplicemente dovuto a un errore se io carico diverse quantità di RNA in partenza e poi amplifico quello che può accadere invece è che ottengo con elettroforesi due bande del tutto identiche quindi altro errore in questo caso si sottostima quello che era stato caricato di più quindi non è quantitativa questo è quello che vuol dire questa immagine la PCR dosata con elettroforesi non è quantitativa la realtà in PCR invece è sensibile affidabile ed è quantitativa si basa sull'identificazione e sulla quantificazione in tempo reale per quello che si chiama real time della fluorescenza emessa da una molecola reporter questo avviene durante la fase di accumulo del prodotto di PCR e a ogni ciclo di amplificazione consentendo così di monitorare l'amplificazione durante la fase iniziale e soprattutto durante la fase esponenziale della reazione di PCR cioè quindi qui in questa fase quindi durante l'amplificazione vediamo questo è un esempio che si può si può benissimo fare con i termociclatori in laboratorio si possono caricare diverse quantità dello stesso materiale genetico di partenza quindi dello stesso cDNA noi possiamo caricare 10 alla 1 mettiamo dice 1 nanogrammi millilitro 10 alla 2 nanogrammi millilitro 10 alla 3 nanogrammi millilitro 10 alla 4 10 alla 15 quindi quantità incrementali e dopo di che le facciamo amplificare vedete che l'amplificazione di quello che è stato caricato meno della minor concentrazione di cDNA parte per ultima perché perché prima che venga amplificato quelle pochissime molecole che ho messo di cDNA vengono amplificate in modo che siano detectable dallo strumento occorrono diversi cicli di amplificazione mentre più è concentrato prima parte l'amplificazione quindi prima posso vedere la 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 curva di amplificazione ora voi capite che quindi questa è un metodo quantitativo io riesco a discriminare una piccola quantità da una grande quantità non solo ma vedete che tutta la scala è perfettamente allineata cioè fondamentalmente quello che accade è che i cicli mi determinano anche quanto materiale c'era in partenza perché perché ogni ciclo il di amplificazione del materiale era doppia assumendo questo quindi se io ho una molecola che mi corre dopo amplificazione e mi fa questo tracciato e un'altra molecola che mi corre con questo tracciato io posso dire che se la differenza è un ciclo sarà uno il doppio dell'altro cioè questa molecola che è corsa dopo sarà meno di questa che è corsa prima che diciamo ha un'amplificazione che parte prima quindi vuol dire che era più concentrato all'inizio e un ciclo significa doppio perché a ogni ciclo raddoppia i cdna la degradazione la denaturazione denaturazione del dna annealing allungamento produce poi alla fine il doppio del template iniziale quindi a ogni ciclo le molecole raddoppiano un ciclo di differenza vuol dire semplicemente doppio è quantitativa e immediata questa tecnica se voglio essere preciso nel momento in cui voglio calcolare la quantità quindi che che voglio che ho nel campione nella quantità che ho nel campione utilizzo il ciclo soglia il ciclo soglia o threshold è un parametro che io impongo allo strumento ok è una soglia fondamentalmente che io impongo allo strumento in piena fase esponenziale per tutti i campioni quindi lo traccio che sia in piena fase esponenziale di curva di amplificazione in tutti i campioni deve essere uguale per tutti e interpolo dal mio ciclo soglia il valore nel numero di cicli ottengo quindi un ct un delta ct tra un ciclo e l'altro e un ct quindi un un ciclo derivato dal threshold che ho impostato che mi determina quanto è espresso il mio campione 1 blu rispetto al campione 2 rosso mettiamo ora questo ct questi due ct possono essere sottratti l'uno l'altro per generare un delta ct una differenza se io misuro in parallelo al mio gene di interesse interlochina 8 un housekeeping cioè un gene un gene endogeno che non si muove in nessuna condizione perché non è mosso da infiammazione non è mosso da ciclo cellulare si muove semplicemente in base alla quantità di materiale che ho caricato diventa un mio controllo interno a quel punto io posso misurare il delta ct del mio campione interlochina 8 il delta ct del mio housekeeping che ce ne sono diversi tra cui l'actina per esempio e calcolo quindi un delta delta ct attraverso il calcolo del delta ct io ottimizzo e performo quello che viene calcolata una real time comparativa relativa quindi comparo l'espressione del mio gene interlochina 8 a un gene housekeeping che si muove solo per differenze di caricamento e non di trattamento e a quel punto ottengo una cifra esatta relativa di espressione del mio gene di interesse cioè per esempio è 2,4 volte l'actina blu è 2,4 volte l'actina rosso è 1,2 volte l'actina cioè la metà non ho non ho esattamente il calcolo di quanti nanogrammi microlitro di interlochina 8 ho nel mio campione ma ho una quantità relativa precisa di quanti interlochina ho rispetto a un housekeeping questo è un calcolo che comunemente si fa è il calcolo del delta delta ct per la real time pcr quantitativa relativa e il più facile da da effettuare in laboratorio altrimenti dovrei generare una curva di standard che corrono chiaramente a concentrazioni diverse di un cdna di cui so esattamente la concentrazione faccio la curva degli standard e poi vado a interpolare nella curva degli standard il mio ct calcolato chiaramente dalla formula chiaramente calcolato dallo strumento fondamentalmente con l'amplificazione degli standard in questo caso avrei l'amplificazione e il calcolo della real time pcr assoluta quindi avrei esattamente anche il calcolo per interpolazione di quanti quanta concentrazione ho di interlockina 8 ma nella maggior parte dei casi nella maggior parte dei laboratori si usa la relativa perché ripeto è più veloce e non occorre fare la curva faccio correre insieme l'housekeeping e interlockina 8 chiaramente ognuno nel proprio pozzetto ognuno con i suoi primers e vado semplicemente a fare il delta delta ct quindi il calcolo della differenza di ct che c'è tra il campione 1 e il campione 2 di genere di interesse e il campione 1 e il campione 2 di housekeeping cosa occorre per creare quindi una PCR real time una reazione PCR real time occorre una DNA polimerasi umana? no la DNA polimerasi che si utilizza cioè l'enzima che fa la polimerizzazione all'interno dei nostri pozzetti nello strumento è una polimerasi che deriva da un organismo acquatico microrganismo acquatico che vive ad altissime temperature è stato scoperto nel nelle pozze idroternali si chiama termofilus aquaticus in abbreviazione TAC T-A-Q questa particolare polimerasi ha un grossissimo vantaggio che funziona ad alte temperature e a noi va bene perché quando noi denaturiamo il doppio filamento di DNA e quindi apriamo il doppio strand in un single strand abbiamo detto che andiamo a 95 gradi e abbiamo detto che l'anneling lo facciamo a 72 gradi questa particolare polimerasi riesce ad agganciarsi già a 60 gradi cioè riesce a lavorare già a 60 gradi quindi non devo aspettare di tornare a 37 gradi far agganciare la polimerasi che poi si rischia di degradare in questo caso di denaturare la stessa proteina ad altissima temperatura se non fosse una proteina resistente alle alte temperature invece questa polimerasi è una proteina adatta all'utilizzo ad alte temperature lo vedete si chiama anche hot start perché può partire ad alta temperatura la reazione di polimerizzazione ovviamente può partire poi occorrono i nucleotidi che in questo caso si chiamano D-NTPs ma non sono altro che nucleotidi liberi che poi vengono chiaramente usati da polimerasi come mattoncini per formare la catena di DNA nascente dallo stampo che lei usa per fare la copia la DNA polimerasi in questione utilizza coloruro di magnesio per funzionare ha bisogno di questo sale per funzionare quindi va aggiunto nella reazione la referenza passiva la sonda di referenza passiva ROX non viene sempre utilizzata tant'è vero che ultimamente non viene neanche più utilizzata nel kit ed era una sonda interna che stabiliva se c'erano delle differenze di fluorescenza date dalla non tanto dalla quantità di campione ma proprio dallo strumento è una referenza interna non viene più utilizzata perché ormai i metodi sono così standardizzati si usano così dei kit già prefatti fondamentalmente tu non devi neanche toccarli che tu carichi tutto quanto quello che ti occorre all'interno del pozzetto ed è super standardizzato e quindi riproducibile poi occorrono in primer ovviamente abbiamo detto che prima e un detector fluorescente perché altrimenti la fluorescenza noi come facciamo vederla il cdna quando si amplifica non è di suo fluorescente sì in realtà un po' lo sarebbe perché gli acidi nucleici hanno un minimo di fluorescenza leggono un minimo di fluorescenza ma non hanno una fluorescenza così spinta e così capace di misurare in modo quantitativo cioè che raddoppia raddoppiare la quantità del cdna e poi vabbè occorre sicuramente il templato che non significa altro che lo stampo ok template è stampo quindi il cdna di partenza quindi il messaggero del nostro lisato cellulare col contenuto di vaticoi in questo caso è stato lisato è stato prodotto un cdna tramite la prescrittà inversa quindi tramite un ciclo di di gestione di amplificazione di questa trascrittà inversa ho trasformato tutto il mio messaggero in cdna e questo cdna è il template che va inserito poi nella reazione lo strumento come funziona ci sono diversi tipi di strumento ma funzionano tutti allo stesso modo c'è una sorgente luminosa che oggi come oggi è data da led un filtro monocromatore che seleziona la lunghezza d'onda che sto usando in base al detector fluorescente che uso ci sono diversi tipi di detector che adesso vediamo vado a illuminare i vari pozzetti questa plastica non sarà plastica normale ma sarà plastica ottica perché deve essere permeabile alla fluorescenza noi sappiamo che la plastica spesso interferisce con le analisi spettrofotometriche e spettrofluorimetriche quindi si usa plastica ottica un particolare tipo di plastica a questo punto viene letta la fluorescenza che viene di nuovo filtrata in uscita e letta da un detector le molecole fluorescenti che possono essere utilizzate per fare PCR quantitativa e che quindi vadano a discriminare che al raddoppiare della quantità di cdna ci sia un raddoppio di fluorescenza ci sono sono diverse esiste il cyber green che è una molecola usatissima in quanto economica e versatile ma non specifica e poi esistono invece i probe quindi le sonde agganciate ai primer che danno una specificità di analisi perché la fluorescenza emessa è dovuta proprio all'aggancio del primer al suo template e quindi non è un fenomeno diciamo broad un fenomeno che si sviluppa all'interno della reazione perché c'è la molecole fluorescenza che si lega al dna ma si lega proprio al vuol dire che il primer si è agganciato al suo template esistono diversi tipi di questi fluorescent PCR primer esistono i Tachman esistono i Scorpion esistono gli Eclipse oggi come oggi le ditte ne producono di tutto e di più tipi ce ne sono veramente tanti siccome voi non penso vi metterete mai a fare una realtà in PCR vi parlo brevemente del cyber green che è il più facile il più versatile il più economico e anche il meno specifico il cyber green è un intercalante del dna cioè è una molecole fluorescente che quando si lega è solco minore del dna della doppia elica quindi quando il dna è double strand emette fluorescenza lei si lega al dna una volta che è legata cambia conformazione e spara fluorescenza se illuminata con un raggio di luce e si è in grado di eccitare i suoi elettroni la fluorescenza ricordiamo è un'emissione di energia dovuta al salto quantico di energia degli elettroni dal proprio orbitale non orbitale di energia superiore e che poi decadendo rilascia l'energia non solo come conversione interna quindi non solo come rilascio di calore ma anche come un'energia quantizzata che è la fluorescenza che può essere eletta da un detector bene il cyber green ripeto è un intercalante il dna quindi qualsiasi double strand si formi non specifico se io sto amplificando per sbaglio vi faccio un esempio ho messo per sbaglio il primer di interlochina 6 con la reazione interlochina 8 e sono convinto di amplificare interlochina 8 sto amplificando interlochina 6 perché ho messo il primer per interlochina 6 che si legherà al mio cdna totale quindi tutte le nostre cellule che io non ho purificato in partenza ma ho messo cdna totale e amplificherò quello che io gli ho detto allo strumento cioè interlochina 6 anche se sono convinto di fare interlochina 8 perché la mia testa pensa che sia interlochina 8 bene questa molecola non mi salverà perché leggerà tutto l'amplificato che viene fatto quindi mi dirà semplicemente quanto amplificato io ho generato se ho sbagliato mettere il primer sono cavoli miei perché lui non me lo può dire mentre con il Tachman sono sicuro di quello che avviene perché nel momento in cui leggo la fluorescenza mettiamo che interlochina 6 l'ho messa con una sonda arancione e interlochina 8 con una sonda verde posso capire che se io intendo leggere interlochina 6 in arancione e sto leggendo verde mettiamo c'è qualcosa di sbagliato ecco quello mi salva questi purtroppo non mi salvano ma sono economici molto versatili abbiamo detto e quindi molto utilizzati come avviene il processo quindi di unione del cyber green al nostro template o al nostro amplificato abbiamo detto inizialmente si denatura il template quindi il double strand si apre diventa single strand e da un'unica molecola iniziale si agganciano i primer c'è la kneeling del primer dopodiché c'è l'estensione quindi amplificazione vera e propria una volta che è amplificato abbiamo alla fine due molecole di amplificato e il nostro cyber green ecco che qua si può agganciare perché quando avrà finito di amplificare sarà tutto double strand ci sarà tutto il nostro bel cyber green attaccato alla mia molecola amplificata quindi al mio DNA amplificato a questo punto vado a emettere la luce incidente che va a colpire e a eccitare gli elettroni e vado a leggere al detector quanto ho di fluorescenza se qui avevo uno teoricamente qua avrò due perché sarà il doppio il doppio delle molecole di cyber green agganciate al doppio chiaramente delle molecole di amplificato così facendo avrò un segnale che a ogni ciclo raddoppierà la fluorescenza misurata quindi se io ho una molecola mettiamo che avrò sopra cinque molecole di cyber green agganciate quindi mi darà cinque di fluorescenza cinque di numero arbitrario unità arbitraria quando avrò l'amplificato quindi doppia molecola di cdna avrò fluorescenza letta unità arbitraria dieci quindi il detector andrà a rivelare la fluorescenza dandomi un risultato che sarà nettamente il doppio del originale a ogni ciclo avverrà questo quindi fino a che il detector non riesce a ricevere un impulso di fluorescenza adeguato avremo il baseline saremo qui quando la fluorescenza comincia ad essere detectable dal nostro strumento ecco che cominceremo ad avere l'aumento esponenziale graficato e poi arriveremo al plateau bene lo strumento che utilizziamo in laboratorio attualmente è questo tipo di strumento ve l'ho portato come esempio ma esistono diversi modelli esistono lettori di piastre quindi piastre 96 rettangolari che vengono adagiati in un supporto rigido che non è altro che un termoblocco che scalda e raffredda generando i cicli e poi l'afflorescenza è letta dall'alto altrimenti esiste questo sistema questo sistema è RotorGene è prodotto da una ditta molto famosa che ha sede in Germania e genera un lo vediamo qui consente di caricare i campioni in una ghiera rotonda in tubi sempre con qualità ottica quindi non in piastra come riporto nell'esempio qui vedete qua l'esempio in piastra questa 96 altrimenti possiamo anche tubi singoli caricare tubi singoli in questo rotore circolare ed eccolo qua i tubi saranno centrifugati in questa camera che è una camera che continua a riscaldare e raffreddare tramite un motore di raffreddamento e di riscaldamento generando temperature chiaramente costanti e affidabili perché se io genero un riscaldamento 95 gradi qua dentro ci devono essere 95 gradi per 5 minuti quindi 95 gradi per 5 minuti deve tenerlo e poi raffreddare velocemente a 72 gradi e poi raffreddare velocemente a 60 gradi poi di nuovo riscaldare a 95 gradi per iniziare il secondo ciclo e avanti così per 40 o 50 cicli il campione in tubo ottico vedete è messo in questa conformazione per far sì che il rotore girando si crei uno spin che tiene tutto il materiale qua in fondo al fondo del cono del tubetto quando arriva in questa posizione in questa posizione è caricato un revolver con diversi laser o meglio in questo caso sono led non si usano più i laser e i led chiaramente emetteranno una luce monocromatica a una determinata lunghezza d'onda quale lunghezza d'onda in base chiaramente al fluoroforo che sto usando se è cyber green io leggo nel verde quindi utilizzerò una luce in grado di eccitare cyber green quindi nel verde spara la luce incidente va a eccitare il mio campione in questo caso tutti i campioni stanno girando quindi uno alla volta vengono eccitati e la fluorescenza viene continuamente letta dal dal detector chiaramente qui avremo una una lente un filtro un filtro di di emissione e poi il nostro detector quindi in questo caso la fluorescenza come spesso viene viene misurata perpendicolarmente rispetto al raggio di luce incidente ottimo la questo è un semplice schema di di termociclatore per per PCR real time in questo caso appunto rotor gene se vedessimo altri tipi di strumento vedremo che probabilmente non avrebbero una parte mobile quindi un rotore qua in mezzo ma avrebbero una parte fissa termoblocco contenente la piastra 96 pozzetti ma il principio di lettura è esattamente identico tornando a noi per la curiosità di chi si è generato la curiosità se questi decoy funzionano o non funzionano vi faccio vedere quello che è accaduto in quegli esperimenti che ormai hanno una dozzina di anni ma è giusto per farvi capire un'applicazione di tutte queste tecniche il i decoy contro NFL6 AP1 CHOP e CREB hanno ridotto l'espressione di interlochina 8 in modo misurabile vedete qui abbiamo ridotto del 60% qui abbiamo ridotto del circa 40% qui del 50% e qui ancora il 40% quindi significa che sequestrando questi fattori di trascrizione io ho ridotto l'espressione interlochina 8 questo significa quindi che tutti questi fattori di trascrizione sono coinvolti nella espressione genica e in particolare nella trascrizione in questo caso di interlochina 8 l'ho fatto in diversi tipi cellulari sempre tutti quanti derivati da paziente CF queste sono i CUFI1 ma anche in cellule non CF come le Calu3 e vedete che sebbene le le performance dei vari dicoi varino il principio è uguale cosa significa che non è una cosa specifica della fibosicistica che in tutti gli individui il il processo di trascrizione di interlochina 8 è regolata da il fattore di trascrizione NFIL6 AP1 CHOP e CREB oltre qua non ve lo faccio vedere o forse ve lo faccio vedere dopo non ricordo se l'ho messa la slide ma incluso anche NFKB quello non l'ho messo perché è così noto in letteratura che è inutile mettere un dato che è stra arcinoto in ogni caso vedete che il promotore di un gene questo vi indica che un promotore di un gene in questo caso interlochina 8 è molto complesso necessita di molti fattori di trascrizione che si ligano uno all'altro generando un complesso di trascrizione che va a determinare poi l'espressione di quel di quel gene comparve qualche anno fa ormai parliamo quasi di 20 anni fa una review bellissima da cui presi molto spunto che faceva vedere come diversi tipi di patogeni in cellule di natura diversa potranno essere epiteliali bronchiali ma anche cellule dell'immunità in cellule del fegato in cellule di rene quello che succedeva era che interlochina 8 era regolata non solo da una serie di fattori di trascrizione tra cui NFKB lo vedete riportato qui ma da una serie di chinasi infinita cioè che andavano a regolare le espressioni interlochina 8 esistevano diversi tipi di potenchinasi quindi diversi tipi di trasportatori della fosforilazione nella cascata di segnale che poi vanno a influire sui fattori di trascrizione quindi vanno a attivare i fattori di trascrizione ed erano quello che era interessante era che ogni singolo stimolo dava cascate diverse molti stimoli davano cascate per esempio P38 questa mapkinasi dipendente ma altri stimoli davano cascate diverse MECERC RAS MEF RAS lo ricordate RAS capa RAS vedete interviene anche nella stimolazione di interlochina 8 nel polmone dovuta all'aggressione di un virus particolare che è l'adenovirus che è il virus che vi provoca i raffreddori o le disenterie in inverno quindi la regolazione genica è un fenomeno altamente regolato e altamente regolabile esistono diversi tipi di segnali dal recettore che viene innescato fino al nucleo dove poi viene espresso un determinato gene che prevedono la cascata di fosforilazione delle mapkinasi quindi delle proteinkinasi e l'attivazione poi dei fattori di trascrizione molto molto complesso ma in generale l'espressione genica è regolata da una serie di eventi un gene perché si è espresso necessita dell'attivazione di una serie di altre proteine prima dell'espressione genica di questo gene altra cosa che si vide in quegli anni era che anche i segnali calcio quindi non stiamo parlando né di mapkinasi né di proteine che si fosforilano né di fattori di trascrizione ma semplicemente di ioni il calcio poteva regolare l'espressione genica di interlockina e soprattutto quando stavamo parlando di polmone e lo stimolo era dato da pseudomonas seruginosa quindi il flagello di pseudomonas seruginosa il il calcio in generale quello che fa come mediatore è attivare le proteine denominate fosfolipasi c cioè le fosfolipasi calcio dipendenti che sono dei mediatori sono anch'esse delle proteine che vanno poi a fosfolilarsi e a generare delle cascate di segnali che vanno a attivare poi mapkinasi e fattori di trascrizione come sempre ma un lavoro interessante del dell'allora nostro gruppo in collaborazione con due gruppi molto molto grossi americani aveva visto che alcuni alcune particolari varianti di un gene polimorfico ricordiamo il gene polimorfico è un gene che ha più tipi di alleri che è la fosfolipasi c-beta 3 isoforma 3 era associata alcune varianti di questa PLC-beta 3 erano variate con erano associate scusatemi con una miglior progressione quindi una progressione più lieve della patologia polimonare CF quindi a parità di mutazioni a parità di tipologia di mutazione delta F delta F 508 nei pazienti chi aveva questi SNIP ricordate gli SNIP che ha fatto nel corso abbiamo parlato degli SNIP quando facevamo fingerprinting quindi single nucleotide polimorfism di PLC-beta 3 erano associati con una migliore progressione della patologia polimonare quindi ecco che gli SNIP possono essere utilizzati anche per riconoscere varianti varianti di geni coinvolti come geni modificatori in patologie la domanda era quale di queste isoforme quale delle tante isoforme è coinvolta solo PLC-beta 3 o anche i suoi fratelli PLC-beta 1, 2, 3 e 4 abbiamo fatto una serie di esperimenti che prevedevano l'utilizzo in questo caso di short interference RNA quindi i SIRNA li abbiamo visti insieme ai MIRNA ricordate che nell'espressione genica le nostre cellule sono in grado di oltre a esprimere RNA messaggeri esprimere altre forme di RNA tra cui i corti short interference corti interferenti RNA e i micro RNA MIRNA la slide da lezione era questa quindi il DNA può trascrivere anche un RNA il DNA trascrive un RNA che attraverso poi un ripiegamento genera questa forcella un enzima chiamato Dicer va a spezzettare questo double strand RNA normalmente l'RNA deve essere single strand in questo caso tramite questa forcella si è generato un double strand riconosciuto da questo enzima Dicer che spezza l'RNA trascritto iniziale in tanti piccoli pezzi definiti MIRNA in questo caso o SIRNA in questo caso i SIRNA poiché arrivavano direttamente da un RNA a doppia elica i SIRNA arrivano direttamente da un RNA a doppia elica perché sono in generale sintetici i MIRNA in generale sono invece endogeni cioè prodotti dalla nostra stessa cellula l'effetto che hanno è lo stesso cioè regolare a livello post-trascrizionale l'espressione genica legandosi al messaggero di un determinato target di un qualsiasi gene vanno a ibridare quindi a generare un parziale double strand tramite le loro sequenze di riconoscimento che sono complementari al single strand dell'MRNA in questione e da lì in poi decidono che cosa fare di questo mRNA per esempio vanno a o a inibire la traduzione o a generare degradazione quindi chiamano le endonucleasi che sono enzimi delle nostre cellule addette alla demolizione di materiale genetico non necessario che vanno a mangiarsi tutto il messaggero bersaglio quindi noi possiamo in poche parole generare una espressione genica differenziale utilizzando sirna e mirna in questo caso utilizziamo sirna contro le diverse isoforme di PLC beta quindi andiamo a eliminare una alla volta le varie isoforme e vediamo quali di questi intervengono nella sintesi nell'espressione di interlochina 8 e lo andiamo a vedere tramite real time PCR quindi l'esperimento è analogo a quello visto prima solo che usiamo short interference RNA contro le PLC beta le andiamo a mettere all'interno delle cellule tramite dei vettori di trasfezione quindi andiamo a mettere far sì che questi double strand RNA sirna vadano all'interno delle nostre cellule poi infettiamo in vitro le nostre cellule con la pseudomonosalogenosa e andiamo a vedere se prima e dopo i sirna interlochina 8 varia bene il check del silenziamento è importante cioè io come faccio a sapere se ho silenziato quel determinato gene beh posso fare una real time PCR e andare a vedere se PLC beta 3 espressione quantitativa relativa quindi con il calcolo delta delta ct come abbiamo detto prima misuriamo quantifichiamo PLC beta 3 prima e dopo il silenziamento tramite il PCR real time e possiamo vedere che se cala il messaggero dopo il silenziamento chiaramente dovrebbe essere silenziata la cosa ma quello che noi vogliamo però vedere effettivamente è che anche la proteina sia sia meno non soltanto il messaggero e voi direte beh se è meno il messaggero sarà per forza meno anche la proteina no non è sempre così ci sono purtroppo dei casi in cui il messaggero l'RNA messaggero non è la quantità di RNA messaggero non è direttamente proporzionale alla quantità di proteina quindi per essersi cui dobbiamo fare anche un check di proteina vedete in questo caso abbiamo usato l'immunofluorescenza quindi abbiamo usato anticorpi diretti contro PLC beta 3 e questi anticorpi erano fluoromarcati in questo caso erano fluoromarcati con Fitch quindi con fluoresceina tiocenato che emette nel verde e vedete che nel caso io non andassi a trattare le mie cellule le mie cellule erano belle verdi in particolare a livello della membrana cellulare vedete quanto la membrana cellulare è molto molto verde e il citoplasma è un pochino verde nel caso invece del silenziamento la quantità di verde era molto molto inferiore adesso lasciando perdere che c'è molto più nero di fondo qui ma vedete che il verde attorno alle cellule è molto meno brillante rispetto a questo a questa figura quindi ho ridotto non completamente abolito ma ridotto l'espressione di PLC beta 3 nel C naturalmente è un controllo come sempre viene richiesto un controllo negativo per vedere che il sistema funzioni un controllo interno abbiamo messo semplicemente un anticorpo non rilevante fluoromarcato con Fitch sempre che andava a bersagliare un bersaglio non umano quindi un bersaglio per esempio di topo o di coniglio che chiaramente non dovrebbe riconoscerlo perché non esiste nella cellula umana e infatti non legandosi poi chiaramente non genera non genera fluorescenza questo quindi è un controllo negativo benissimo abbiamo chiaramente visto anche a livello di messaggero tramite real-time PCR la quantità di PLC-Bita3 e vedete che questo gene PLC-Bita3 era ridotto dopo silenziamento genico con SIRNA due diverse sequenze di SIRNA quindi abbiamo usato un SIRNA sequenza 1 SIRNA sequenza 2 naturalmente SIRNA essendo molto corti andando ad agganciarsi a un messaggero molto lungo lo posso generare che questo SIRNA si agganci in una parte diciamo 5' o anche in una parte 3' o anche in una parte centrale quindi posso generare diversi tipi di sequenza short interference e ognuno di loro in genere avrà un'efficienza diversa in base a quanto riesce a richiamare le endonucleasi quindi in questo caso due diverse sequenze che agganciavano due diverse porzioni del messaggero andavano a produrre a promuovere la degradazione del messaggero di PLC-Bita3 naturalmente ho osservato tutto questo in real-time PCR con il metodo delta-delta-CT anche in questo caso vedete qui un altro tipo di cellule è sempre CF in questo caso le IB3 in questo caso le QF1 sono sempre cellule di pazienti ma di pazienti diversi ottenevamo un risultato del tutto simile facendo vedere cosa che non era un effetto specifico dovuto a queste cellule che magari avevano delle endonucleasi particolarmente attive che riconoscevano ma in generale questo lo posso ottenere in diversi tipi cellulari bene che cosa succedeva a interlochina 8 dopo che avevo silenziato PLC-Bita3 cioè interviene anche PLC-Bita3 quindi tutto questo discorso del calcio è vero o non è vero che interviene nell'espressione di interlochina 8 è vero perché quando io ho tolto di mezzo l'espressione di PLC-Bita3 tramite i suoi short interference RNA ho anche ridotto interlochina 8 qui vedete la realtà in PCR e qui vedete invece una quantificazione proteica in ELISA che vedremo nelle future puntate del corso quindi in poche parole cosa succede? succede che abbiamo dimostrato che PLC-Bita3 è importante è importante nel sintesi per la sintesi della per l'espressione genica di interlochina 8 ricordate tutto quello che abbiamo detto sui mitocondri i mitocondri sono le centrali energetiche delle nostre cellule le membrane interne le membrane esterne la matrice la respirazione all'interno del mitocondrio che genera energia ma abbiamo anche detto che sono importanti nel momento in cui vengono vanno a degradarsi la degradazione mitocondriale è uno dei primi fattori che induce i poctosi ma questo è abbastanza ovvio quando i mitocondri sono degradati quello che avviene è che la cellula non riesce più a produrre energia e quindi non riuscendo più a sopravvivere quello che fa è che si lascia morire questa è abbastanza una conseguenza ora in questi esperimenti vi porto le immagini che avevamo fatto a un microscopio confocale dei mitocondri che vi ricordo non sono come vengono rappresentati nei libri come dei semplici fagioli tagliati piazzati qua e là nella cellula ma sono delle reti ben connesse mitocondriali all'interno di una cellula vedete quanti mitocondri ci sono all'interno della cellula che generano proprio questa specie di rete e vedete come l'aggressione del batterio di pseudomonestrogenosa vada a frammentare nel tempo queste reti cioè qua è una rete abbastanza continua qui un po' meno dopo 60 minuti e qui molto meno dopo 120 minuti vedete ci sono proprio dei puntini sono appunti qua vuol dire che i mitocondri non sono più in rete sono proprio frammentati questo è stato riprodotto ovviamente anche in altri tipi di cellule per esempio nelle S9 dove però quello che ottenevamo in questo caso era che le cellule S9 che sono cellule normali non CF resistevano molto di più all'aggressione adapsa monestrogenosa quindi in questo caso si poteva speculare che la presenza senza di CFTR fosse correlabile in qualche modo a una maggior gravità da parte della cellula dell'aggressione non seroginosa in quanto il suo mitocondrio i suoi mitocondri nel caso di CF vanno incontro a una degradazione più rapida rispetto ai normali ai mitocondri di cellule non CF e quindi possono spingere la cellula verso fruttosi precoce bene questi sono i famosi mitocondri che abbiamo già visto le lezioni come sono fatti come vengono raffigurati nei libri giusto e vi avevo detto già attenzione perché i mitocondri oggi come oggi sono così in una cellula se qua c'è il nucleo della cellula tutto attorno al citoplasma avremo queste reti di mitocondri bene parlavamo di calcio è importante il calcio perché la PLCB3 è una proteina una fosfolipasi C beta 3 che è coinvolta nei segnali calcio dipendenti e infatti abbiamo visto per esempio che il calcio che normalmente ha dei livelli basali molto bassi di rilascio nel momento in cui c'è l'infezione con pseudomonosoginosa vedete in nero il calcio intracellulare continua ad aumentare se noi andiamo a misurare il calcio intracellulare dopo aggressione pseudomonosoginosa nel tempo vedete ogni 30 secondi questo leggero trattino sono 30 secondi qua stiamo parlando quindi di diversi minuti vedete che il segnale calcio continua continua ad aumentare la concentrazione di calcio intracellulare in nanometri continua ad aumentare bene dopo silenziamento di PLCB3 il calcio invece si continuava ad aumentare ma molto meno noi abbiamo visto che il silenziamento non era totale era parziale abbiamo silenziato circa 50% più o meno della PLCB3 quindi la quantità comunque residua continua a lavorare però vedete che comunque riduce significativamente la quantità di calcio intracellulare che si muove dopo l'aggressione di pseudomonasologinosa quindi questo cosa significa significa che il batterio a contatto con le cellule tramite i tolyceptor muove tutte le sue signaling attraverso le macchinasi fattori di trascrizione muove il calcio anche fa degradare i mitocondri attiva l'infiammazione tramite interlochina 8 e quindi diamo una giustificazione un po' complessiva di quello che avviene della gravità che avviene durante un'infezione di pseudomonasologinosa all'interno di un polmone di un soggetto con fibrosicistica bene parlando di short interference abbiamo visto anche i microRNA i microRNA sono oggi come oggi una nuova frontiera per lo studio della regolazione dell'espressione igienica post-trascrizionale cioè dopo che l'mRNA messaggero maturo è uscito dal nucleo e deve essere poi letto dal ribosoma i microRNA attualmente individuati sono centinaia e ognuno di loro ha diversi target diversi geni ogni microRNA voi vedete qua i microRNA 17 203 125 19b sono soltanto 4 di una lunghissima serie e ognuno di loro ha uno o più bersagli bene funzionano esattamente come i short interference RNA quello che vi voglio dire brevemente è questo funzionano come i short interference RNA sono stati identificati come endogeni quindi vengono prodotti anche dal nostro stesso corpo non hanno bisogno di essere trasfettati interno delle cellule in modo artificiale come i short interference come i sirna ma agiscono esattamente allo stesso modo e quello che è stato visto è che anche molti microRNA regolano l'espressione di interlochina 8 prima e dopo l'infezione con pseudomonaseroginosa vedete questo è un microarray e testa contemporaneamente l'espressione differenziale di centinaia o migliaia in questo caso è migliaia di geni in questo caso migliaia di microRNA tramite ibridizzazione in ogni caso nel momento in cui questi microRNA danno un risultato danno un risultato di questo tipo è un risultato comparativo qua vediamo in rosso è un'alta espressione in verde è una bassa espressione il giallo è una media espressione però se voi vedete il prima e il dopo infezione voi vi rendete conto che cambia molto la situazione la situazione che prima era tutta rossa quindi molto espressa di tutti questi mirna diventa tutta molto poco espressa quindi da tutto questo si deduce che tutti questi microRNA sono in qualche modo correlati associati nella loro espressione all'aggressione all'infezione da parte di pseudomonaseroginosa ne abbiamo selezionati alcuni li abbiamo validati abbiamo visto per esempio che il mir microRNA 93 regola l'espressione per l'ochina 8 in modo endogeno per farlo abbiamo prodotto in modo artificiale i microRNA che si possono benissimo riprodurre in modo artificiale anche se loro esistono già all'interno delle cellule ma noi possiamo crearli sintetici e andare a trasfettarli quindi a metterne una quantità desidrata all'interno delle cellule per fare quindi un esperimento di controllo dell'espressione e abbiamo generato poi anche un antagomir e un premir allora l'antagomir non è altro che un inibitore del microRNA quindi è una molecola generata per andare a eliminare il mirna 93 il premir invece è il mirna 93 e vedete che man mano che io metto microRNA 93 io riduco l'espressione interlochina 8 man mano che metto l'inibitore del mirna 93 aumento di conseguenza interlochina 8 quindi il contrario quindi è giustificato è spiegato che mirna 93 il microRNA 93 regola l'espressione interlochina 8 nelle cellule bronchiali quello che è stato fatto poi negli anni e si continua a fare ma adesso ci sono ripeto centinaia di studi sui microRNA c'è da perderci la testa è che tantissimi geni hanno una serie di microRNA in grado di modulare l'espressione in vivo di questi geni e che quindi possono essere usati come bersagli terapeutici anche i microRNA come gli RNA messaggeri possono essere misurati dalla realtà in PCR perché sono pur essendo corti ci sono dei particolari metodi per in particolare kit per l'indagine alla PCR alla realtà in PCR che sono in grado di determinare quantitativamente l'espressione di microRNA all'interno delle cellule o addirittura all'interno dei liquidi biologici come può essere il plasma e quindi fare addirittura queste analisi in vivo sui microRNA circolanti vengono definiti questa tabella vi fa vedere una cosa importante vi fa vedere quanto il seudomone seruginosa riesce a regolare non tanto interlochinotto che abbiamo fatto oggi un focus su quello per cercare di capire un po' come funzionano le cose ma tantissimi geni che possono essere app regolati e quindi aumentati nella propria espressione dall'allegrazione di pseudomonosologinosa o down regolati in questo caso quindi per esempio il tollare settore 5 viene down regolato dopo aggressione a pseudomonosologinosa che è una cosa abbastanza interessante insomma una cosa intrigante perché il tollare settore 5 abbiamo detto che è anche un recettore di pseudomonosologinosa in quanto riconosce il suo flagello direi che vi ho dato un milione di informazioni spero però di avervi per lo meno interessato e di essere stato sufficientemente chiaro chiaramente questa lezione ripeto è stata un approfondimento di diversi argomenti già trattati però ho cercato anche di darvi qualche nozione nuova a livello di realtà in PCR per esempio e per farvi capire un attimo sia come funziona la tecnica ma per darvi anche un'idea di quello che vuol dire essere quantitativa e non qualitativa ci vediamo con chi di voi frequenterà le mie prossime lezioni la settimana prossima e naturalmente in bocca al lupo come sempre per tutto stay safe mi raccomando e andrà tutto bene ciao grazie a tutti grazie a tutti